E' un segnale importante, un segnale di fiducia in un momento particolare che vive ovviamente la nostra città, tutto il nostro paese, un momento nel quale dobbiamo lanciare un segnale di speranza, di fiducia, di convinzione in una ripartenza che non sarà facile ma che comunque sarà certamente possibile, stiamo costruendo assolutamente le basi perché ciò possa avvenire, dobbiamo farlo tutti insieme, questo è un segnale importante e ringraziamo Tiziano per tutta la città, nel cuore della nostra città, appunto per lanciare un messaggio che parta da un sostegno a quelle che sono le attività commerciali, le attività che sono state costrette alla chiusura in questo tempo purtroppo della pandemia e che piano piano in un ritorno alla normalità che sarà graduale dovranno essere sostenute, saranno sostenute ovviamente dalle istituzioni, noi chiediamo che sia il governo a darci le risorse per poter abbattere soprattutto la pressione fiscale e tributaria di queste attività e consentire loro di superare questa fase di crisi, intanto difendendole da ciò che è successo ma soprattutto programmando un rilancio. Un invito a tutti, siamo italiani, siamo forti, non mogliamo, sarà dura perché purtroppo la situazione la sappiamo qual è, ma uniti insieme dobbiamo dobbiamo affrontare, ripartire, ripartire più forti prima. Abbiamo fatto tutto, sanificazione dei locali, tutto l'impianto era ricondizionata, abbiamo preparato tutti i camerini appositi per provare e lo staff rimaniamo tutti a completo, sono ragazzi che insieme abbiamo costruito tutto quello che abbiamo fatto, quindi come abbiamo fatto l'inaugurazione 5 anni fa, ripartiamo un'altra volta tutti uniti. Teramo è bella, abbiamo tanti bellissimi negozi e dobbiamo ripartire uniti più forti e più forti di prima, sono convinto che ce la facciamo.